Le mascherine chirurgiche sembrano essere un incubo senza fine per gli italiani. Da prima si sono trovate, poi sono scomparse, poi di nuovo introvabili. Insomma, sembra essere veramente una rincorsa verso l'impossibile. A pochi giorni dalla riapertura di tante attività commerciali, qual è la situazione nelle farmacie? E naturalmente quali sono le condizioni alle quali i cittadini le possono acquistare? Le mascherine sono quasi introvabili, arrivano pochissime dai grossisti. Chi le propone magari qualcuno ancora con prezzi più elevati del prezzo calmerato? Le mascherine costano 61 centesimi e non 50 centesimi perché ancora il governo tiene il 22% di IVA come un prodotto di lusso. Oggi me ne sono arrivate un pochettino, stamattina noi ne avevamo un po'. La nostra farmacia ad oggi le ha, a prezzo calmerato. Quindi speriamo che continuino ad arrivare perché le richieste sono tante, le aziende che devono aprire ne richiedono centinaia a settimana. Quindi noi cerchiamo adesso un pochettino di accontentare tutti con 5-10 pezzi a persona perché sennò le scorte vanno subito finite e la popolazione è in difficoltà. Dottore, allora qual è la situazione delle mascherine nelle farmacie comunali di Aset? Per ora, nonostante i problemi che si sono stati in giro, abbiamo avuto un notevole supporto ad alcuni magazzini in particolare. Quindi finora siamo riusciti ad accontentare le richieste nonostante le grandi difficoltà che ci sono. Per quanto riguarda invece gel e guanti, qual è la situazione? Gel non c'è mai stato problema. Guanti e alcol si fa molta difficoltà a trovare. Sono almeno due settimane che non si riescono a reperire sul mercato. I grossisti sono stati anche un pochino riforniti dalla protezione civile e ne inviano quantità limitatissime alle farmacie. Ad esempio noi ne arrivano 50-100 un giorno sì, un giorno no. E per questo abbiamo deciso di darne massimo due a persona per cercare di accontentare più persone possibili. Perché se no arriva una persona, ne voglio 50, ne voglio 100 e già abbiamo finito il giorno. E quindi per un discorso di servizio abbiamo preso questa decisione. Noi, ma penso che anche molti altri colleghi, abbiamo adottato sempre la politica. Meno le paghiamo e meno le vendiamo. E quindi per questo, prima del prezzo calmierato, anche le chirurgiche avevano un prezzo che variava dall'1,30, 1,50, 1,70, così anche queste FFP2 in base agli arrivi hanno avuto 6,50 euro, parlo della nostra farmacia, 4,70 euro, 5 euro e non escludiamo comunque di tornare anche a 4,70 euro nel caso dei prossimi arrivi. Grazie a tutti.